Armando Rizzo a Caccuri, come mai? Siamo a Relesciato Caccuri, questa nuova realtà all'interno del castello di Caccuri. Noi ci occupiamo di soggiorni esclusivi, di eventi e facciamo ricettività turistica proprio all'interno del castello dove abbiamo creato questa struttura dotata di tre suite delle sale dedicate. È da circa un mese che siamo partiti con la nostra attività e abbiamo avuto anche una discreta risposta e quindi facciamo questo. Ci sono turisti che hanno voglia di chiudersi magari in una realtà come questa del castello per fare veramente un po' di relax? Moltissimi, devo dire anche che hanno superato anche le nostre aspettative perché come dicevo noi siamo partiti da non troppo tempo, da un mesetto circa e abbiamo avuto una notevole risposta soprattutto dagli stranieri. Abbiamo un turismo internazionale, sono venuti addirittura da Singapore, dall'Australia, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, quindi abbiamo veramente abbracciato in un mese quasi tutto il mondo. Quindi vuol dire che il modello soggiorno nel castello funziona e ha superato appunto le nostre aspettative questa cosa. Questa possibilità avviene attraverso quelli che sono i siti turistici o in realtà è una strada che hai deciso di percorrere da solo? No, no, ovviamente c'è la possibilità di consultare il nostro booking online. Noi abbiamo un sito che è quello del relashatokakuri.it.com, ma è chiaro che siamo sui principali vettori di turismo internazionale, quindi è possibile prenotare da noi online come meglio si richiede, sì.